Presso quale ente svolge il suo lavoro di docente o ricercatore? Sono uno studente di dottorato presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell'Università di Torino. Quando ha deciso di dedicarsi alla scienza e alla ricerca? Ho iniziato a interessarmi di scienza e di sapere il periodo delle superiori, quando ho iniziato a chiedermi che cosa avrei voluto fare da grande. E grazie ai professori, agli insegnanti che ho avuto, anche di materie non scientifiche, ho iniziato ad essere interessato e a nutrire l'interesse per la cultura e per il sapere scientifico. Si prevede che nel 2050 ci saranno sul pianeta 9 miliardi di persone. Secondo lei sarà possibile alimentare tutta la popolazione in modo sostenibile? Penso di sì. Si tratta di una sfida assolutamente non semplice, però ci sono tutti gli strumenti tecnici e l'innovazione per poterlo fare. Il problema è la distribuzione delle derate alimentare e soprattutto la logistica che le caratterizza, ovvero la distribuzione una volta che queste sono state prodotte e quindi il tempo di percorrenza per arrivare poi effettivamente sulle nostre tavole. Crede che l'esposizione universale sarà in grado di proporre concrete soluzioni per il futuro del pianeta? Sarà realmente utile? Penso che Expo possa rappresentare una buona piattaforma per favorire lo scambio di conoscenze, però non credo che sia in grado di garantire nel concreto e nell'immediato delle soluzioni. Penso che queste possono derivare da strategie politiche ed economiche ad un differente livello che non quello di una rassegna, seppur importante, però di tipo più divulgativo. I prodotti di quarta gamma costituiscono un'importante realtà a livello commerciale, ma sono veramente sicuri? Sì, i prodotti di quarta gamma sono sicuri sia da un punto di vista microbiologico sia di componenti come ad esempio i nitrati. Il problema del settore e nel comparto alimentare in genere è che spesso i mass media enfatizzano problemi o incidenti di percorso che succedono nel settore, destabilizzando quindi tutta la catena e impoverendo comunque un sistema che di per sé è già molto fragile. È noto che frutta e verdura facciano bene alla salute. È veramente così? Sì, frutta e verdura fanno bene alla salute e lo sappiamo dalle storie che ci hanno sempre raccontato i nostri nonni o quello che si sente dire in televisione o sui giornali. È importante precisare però che sono le differenti specie che fanno la differenza. È il sistema culturale che influenza ad esempio i contenuti in vitamine, carotenoidi e antiossidanti. Quindi un discorso generalizzato non può essere fatto ma andrebbe visto caso per caso. Grazie a tutti.